Siamo a Taranto, precisamente in zona Lama, nei pressi di via Betulle, un angolo di paradiso, l'ennesimo angolo di paradiso, un panorama mozzafiato, però purtroppo tanta inciviltà, tante discariche, discariche che poi insistono molte volte all'interno di terreni privati. Ne parliamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Sì, intanto vorrei precisare che questo nostro essere presenti sul territorio è dettato unicamente dal fatto che ormai i residenti di San Vito, Lama e Talsano hanno preso la nostra associazione come punto di riferimento. Quindi ci inviano queste immagini e ci segnalano il degrado nella speranza che il nostro intervento possa risolvere qualche problema. Ovviamente noi non siamo attrezzati per fare i miracoli, ma ci adoperiamo al buonsenso delle istituzioni che per il momento sono sempre presenti e cercano di aiutarci a risolvere i problemi. Certo, qui è evidente che il problema e la colpa non è unicamente della pubblica amministrazione, ma anche del privato che ha una colpa in vigilando, perché ovviamente non recinta la sua proprietà privata e quindi consente la discarica abusiva. Quindi noi ci auguriamo che la pubblica amministrazione possa intervenire andando ad intercettare i proprietari, sanzionandoli e comunque invitandoli a sorvegliare sulla proprietà privata. Grazie.